La pittura può curare? Chi guarderà questo dipinto e avrà degli occhi attenti capirà che è successo qualcosa. Non volevo che fosse la mia pittura a prevaricare. Per fare questo non potevo progettare il dipinto. È un atto essenziale di cura ma di sofferenza. Un dipinto non è mai solo un dipinto, un ritratto non è mai solo un ritratto, un paesaggio non è mai solo un paesaggio. Usare un colore, metterlo su questa parete, sta raccontando se stessa. Quindi questo dipinto è un autoritratto.